È passato quasi un anno dall'approvazione della legge provinciale su territorio e paesaggio da parte del Consiglio Provinciale che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. L'obiettivo è farla entrare in vigore dal 1 gennaio del 2020. Allo scopo di preparare il passaggio all'attuazione concreta della legge, sono attualmente in corso una serie di attività di formazione e informazione. Gli strumenti nuovi sono lo sviluppo demografico, lo censimento degli uffici vuoti delle aree, il censimento degli insiemi, la mobilità e l'accessibilità, il programma per lo sviluppo del turismo e anche il registro del valore dei terreni agricoli. La nuova legge prevede per tutti i comuni l'istituzione di un programma di sviluppo comunale inteso come strumento di pianificazione strategica che indicherà lo sviluppo territoriale per un periodo di almeno 10 anni. L'individuazione delle aree insediabili è quindi l'aspetto più rilevante della fase pilota che oggi ha avuto il suo avvio ufficiale per sette comuni, chiusa Cortaccia, Corvara in Badia, Tubere, Racines, Nova Levante e Lana. Insieme al Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano, l'amministrazione provinciale ha organizzato un corso di formazione rivolto ai tecnici dei comuni per prepararli alle loro nuove competenze. Il front office in pratica provvede in particolare la ricezione di tutta la documentazione che riguarda la costruzione nel comune, poi alla consegna delle autorizzazioni, delle necessarie provvedimenti della consulenza preliminare e anche dell'accesso agli atti amministrativi secondo la legge di trasparenza. Grazie alla nuova legge i comuni assumeranno una maggiore responsabilità e quindi un ruolo strategico nella programmazione territoriale.